Caterina, l'aranciata... Caterina, l'aranciata, 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 l'aranciata... Sì? È molto bello. Sì? Non disturbo, vero, se mi permetto di ascoltare. Io amo molto la musica. Suo marito suona molto bene. C'è un aspetto fortunato in tutte le cose. Anche nella vostra venuta qui. Almeno per me. Ma la prego, entri. No, non mi permetterei mai. Così da lontano. La prego, entri. Dentro ascolterà meglio. Sì, forse ascolterei meglio, ma... Ma allora si accomodi. Franco, una visita. Grazie. 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 Grazie.